Hashtag Riprendiamoci Campo Marzo, lanciato dal prefetto Signoriello di Vicenza in occasione della festa della Repubblica del 2 giugno e rilanciato dalla nostra emittente i vicentini, non si esaurisce con la celebrazione ma diventa il nuovo mantra dell'amministrazione che vuole andare oltre all'emergenza della cronaca. L'hashtag Riprendiamoci Campo Marzo lo facciamo nostro come amministrazione e vogliamo investire sia sul tema della sicurezza del territorio sia sul tema della rivitalizzazione dello stesso in modo tale da restituirlo ai vicentini. Hashtag Riprendiamoci Campo Marzo, ma come riprendere il polmone verde della città, la porta d'ingresso al centro? Piccole e grandi iniziative sono già state messe in atto. Sicuramente la novità dell'amministrazione è stata quella anche di volere tra i tanti eventi che abbiamo portato in quella zona anche quello di riportare per esempio il Luna Parche di Pasqua che era stato abbandonato come concetto invece noi abbiamo deciso di riproporlo e di continuare a proporlo ogni festività pasquale. I vicentini dal canto loro sentiti al microfono di Rete Veneta qualche idea, l'amministrazione l'hanno lanciata. Penso ai venti facciano bene. Come era una volta, non dico il circo come quando ero ragazzino perché sono 77enne ma allora si andava a passeggiare ed era un piacere con due bar aperti. Hashtag Riprendiamoci Campo Marzo e se la riconquista passasse proprio attraverso nuovi locali pubblici? Di certo gli esercizi pubblici nella nostra città sono assolutamente strategici nella rivitalizzazione del territorio ma anche nel controllo dello stesso sono delle sentinelle di fatto che presidono il territorio, evidenziano delle criticità e le suggeriscono al comune. Quindi sicuramente sarebbe un auspicio che possano svilupparsi anche in Campo Marzo più soluzioni in questo tipo.